Un tragico incidente stradale lungo la strada del Costo, direzione Altopiano. Era mezzanotte quando una moto con in sella due persone tra il secondo e terzo tornante della salita ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail nella parte opposta della carreggiata. Nulla da fare per Vanessa Filippi, 29enne di Tiene, passeggera della moto che a causa del violento schianto è morta sul colpo. L'uomo alla guida invece, ferito gravemente, è stato soccorso dal suo M118 e trasportato all'ospedale Sant'Orso in codice rosso. A causa della particolarità del tratto stradale è stato necessario l'intervento di tre pattuglie della polizia locale e il mezzo, una Triumph e i caschi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine messe a disposizione della procura di Vicenza.